COSPLAY COSPLAY Per me cosplay è appassionante perché ti permette di essere tutto quello che vuoi in libertà. È l'essenza di ognuno di noi. Ed è passare una giornata dimenticando il resto del mondo. Creatività e condivisione è tanta voglia di mettersi in gioco. Ripetare sempre un personaggio diverso. Vuol dire amicizia. Uscire dalla realtà, dai problemi e dai difficoltà della vita. E divertimento. E divertimento. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosplay is not consent.